Anche la Chiesa condivide questa situazione di disagio e sofferenza a causa della diffusione del coronavirus, assomendo in maniera corresponsabile iniziative con cui contendere il diffondersi del Covid-19. L'invito è rivolto anche ai credenti chiamati ad osservare tutte le precauzioni per evitare il contagio e allo stesso tempo ad esorcizzare la paura attraverso la preghiera, anche attraverso i sacerdoti, da cui l'iniziativa di Padre Paolo Saturno, missionario redentorista. Sono 22 strofe di quartine e senari con un piccolissimo ritornello che dice «Pietà, Signore, ascoltaci». È una confessione. Io, a nome della umanità, soprattutto a nome della nostra terra e dei nostri concittadini, mi rivolgo al Padre che è sempre il nostro Dio pronto ad accogliere le nostre preghiere. Noi non siamo degni di essere Suoi figli, ma Lui è sempre un Padre affettuoso. E poi, in questo momento di dolore, di ambascia, a chi possiamo rivolgerci se non a Lui? E se Lui non volesse ascoltare la nostra voce, dice il testo, noi presentiamo attraverso Gesù questa nostra richiesta. E concludo poi alla fine dicendo che abbiamo comunque sempre l'intercessione, oltre che dei nostri Santi, Sant'Alfonso, San Gerardo, i nostri Santi Redentoristi, soprattutto la Madonna, che è sempre Madre amorosa, che non abbandona nessuno. E ho chiesto al Padre Superiore, il Padre Gennaro Sorrentino, di poterla cantare in questo periodo di sofferenza, di dolore di ognuno di noi, al termine della Messa, ma proprio come preghiera. O Padre Gennaro Sorrentino, che sei nostro Dio, a te rivolgiamo la nostra preghiera. Pietà, Signore, ascoltaci. Pietà, Signore, a te rivolgiamo la nostra preghiera.